Voglio parlare con voi di In Fabric, perché cazzo sono impressionato da questo film, un film, non so se dirvelo o non dirvelo, sì no ve lo dico, un horror un po' comedy, un po' no, britannico del 2018 che ci ha messo un bel po' da arrivare, infatti In Fabric in realtà noi lo conoscevamo, avevamo già visto il trailer tanto tempo fa, io avevo anche detto cavolo però è interessante questo In Fabric, considerate che è dell'A24, ormai l'A24 è come lo shogun Mitsukuni mito, cioè appena tu mostri il simbolo dell'A24 tutti si inchinano di fronte allo shogun, non so se la citazione è un po' per gli anziani però era un cartone animato molto figo di quando ero giovane io, in cui questi messaggeri dello shogun facevano vedere il simbolo e tutti quelli dell'impero si abbassavano e avevano una paura fottuta del cazzo di shogun, ecco quando A24 tira fuori un film poi la gente dice allora spacca, e in effetti, in effetti, per rispondere alla domanda di Alka, Fabric lo trovi su Prime Video, mica cazzi, andiamo a vederci il trailer? Ah, piccola nota, cosa che detesto profondamente, purtroppo su Prime questo film è solo in lingua italiana, quindi non potrete godere appieno della recitazione degli attori, io me lo sono fatto andare bene, ma come potete notare ci sono degli accenti, delle cose interessanti che un po' si perdono, però devo dire che il doppiaggio è discreto, non è fatto male, non è fatto male però per me è sempre un filmonco, peccato, però era l'unico modo per vederlo, perché non c'è la versione inglese. No ragazzi, no, mi devo far vedere questa scena qua, perché non sapevo che, non mi ricordavo ci fosse nel trailer, questo jump scare finale. Solo una dressa. No ragazzi, guardate, è una visione, è una visione assurda questo film, è una visione assurda. Allora, mi piace iniziare, a parte il fatto che il regista si chiama Peter Strickland, non mi ricordo se il preside della scuola, del liceo, di Ritorno al Futuro si chiamasse Peter o un altro modo, però di sicuro si chiamava Strickland, il preside che tormentava il buon Martin McFly, quindi mi rimarrà sempre facilmente in mente il nome Strickland, perché mi ricorda Ritorno al Futuro. Il regista di questo film si chiama Peter Strickland e voglio iniziare parlandovene, leggendovi, è stato accolto molto bene dalla critica in generale, e voglio iniziare leggendovi quelle che sono le definizioni di alcuni giornali famosi, magazine famosi di cinema che ne hanno parlato. Così, perché sono interessanti, sono riflessioni interessanti che in parte condivido. The Independent l'ha definito un suspiri ambientato nei grandi magazzini. L'Independent definisce in Fabric un suspiri ambientato nei grandi magazzini. Daily Telegraph lo ha definito la risposta inglese moderna a Louis Bonwell. Questo mi sembra un po' potente come affermazione, ma vabbè, sicuramente però è utile a suscitare fascino e curiosità in voi che state ascoltando, sono abbastanza sicuro. The Guardian l'ha definito un inebriante mix di nostalgia, alchimia legata all'abbigliamento, scusate anche le traduzioni, e commedia contorta con influenze horror. New York Times lo ha definito il lavoro più impressionante, avvincente e fantasioso mai realizzato di Strickland. Rolling Stones, un viaggio singolare in una mente singolarmente deformata. E comunque sappiate che la rivista Science & Sound, che è una famosa rivista di cinema, lo ha messo comunque nella sua lista dei migliori film 2019. Quindi comunque, questo per dirvi che il film non solo è stato accolto benissimo, ma sono stati fatti anche dei paragoni importanti, che secondo me forse sono un po' esagerati. Però vanno presi con le pinze, cioè non servono per dire, ah questo film equivale ai film di Bonoel, oppure questo film equivale a Suspiria di dare argento. No, servono per darvi la suggestione di quelle che sono le ispirazioni, le atmosfere, ciò da cui prende, ciò da cui si ispira, perché tutto il cinema si ispira da qualcosa precedentemente. Quindi servono un po' a entrare in quel mood. La storia è abbastanza drammatica. Io mi sono sentito molto in empatia col personaggio dell'attrice protagonista, che adesso vi dico anche il nome perché è molto brava, scusate, non mi ricordo. È molto molto brava in questo film, è un'attrice che avete visto in tante serie tv e film, perché è già un'attrice navigata. Si chiama Marianne Jean-Baptiste, è un'attrice inglese. E il suo personaggio è un personaggio che vi spezza il cuore subito, perché è una donna separata, sola, che si sente sola, vive col figlio adolescente, grande, insomma, che ha una fidanzata, che gliela porta in casa. Lei è sola e fa degli incontri al buio tramite un servizio di posta, incontra delle persone per corrispondenza, poi le incontra dal vivo e ovviamente poi non sono le persone che si aspetta. Ed è molto triste vederla così sola, così... ormai ha la frutta. Vive anche una situazione molto grottesca e particolare a lavoro, perché in questo film viene molto ridicolizzata la figura dei datori di lavoro, delle persone che hanno dei dipendenti e che gestiscono il lavoro, no? Ci sono delle situazioni in cui lei verrà rimproverata e redarguita sui suoi comportamenti sul posto di lavoro che saranno molto grottesche e imbarazzanti. Verrà, diciamo, redarguita per cose molto stupide. Il tema del lavoro è sicuramente uno del lavoro e questa chiave di lettura molto tragicomica del mondo del lavoro è comunque uno dei temi del film e a me è piaciuto parecchio, perché c'è una sorta di polemica in gioco. Lei, per uno dei suoi incontri, decide di comprare un vestito, un vestito sexy, un vestito che la renda bella ma che non dica troppo, che non dica che lei si concede troppo. Insomma, è molto indecisa su che vestito comprare, alla fine in questo store, in questo negozio, in questo grande negozio di vestiti viene indotta a comprare questo vestito, viene proprio indotta a comprarlo e il vestito è un vestito ovviamente maledetto. È un vestito maledetto, un vestito che ha qualcosa di diabolico e che porta del dolore a chi lo possiede. Poi vedrete che scoprirete il retroscena di questo vestito, eccetera. È un film visionario, molto audace, morboso, perché ci sono delle situazioni che riguardano la sfera sessuale morbose, molto particolare, molto particolare, ed è il tipico film che mi dà gioia, che mi dà gioia. Che non significa che il film mi è piaciuto in modo, diciamo, folgorante. Non è questo, non è questo. Ci sono film che mi piacciono e che mi travolgono, che mi avvolgono, come per esempio Mr. Vendetta, di cui abbiamo parlato prima, mi è piaciuto proprio... Però siamo nella sfera del piacere, del godere di un film. Questo è un film che mi piace perché non mi dà ciò che mi aspetto. Non mi dà... È esattamente il tipo di film che dici, ma che cazzo? Ma che è sta romana? Tu sei pazzo. Ecco, questo regista è un regista libero. È un regista libero che fa quello che vuole, che vi racconta la storia come vuole, che mescola i generi, che ironizza, che ha un grandissimo senso estetico. Perché vi ho fatto vedere quel jumpscare con quella mano di manichino? No, questa qua, ve la faccio rivedere. Perché nel film, ve la faccio rivedere perché è veramente... C'è un tocco di trash, questa qua. Questa è una scena del film. In questo caso è stata sovrapposta all'immagine... Ma c'è... Ci sono delle cose assurde in questo film. Che per qualcuno, no? Qualcuno che ha una mentalità di un certo tipo dice No, questo film è assurdo. Questo film fa delle cose trash, strane. Lo percepisce come brutto, come sbagliato. Invece io lo percepisco come un regalo. Come un tentativo audace di fare qualcosa di strano, qualcosa di sorprendente, qualcosa di diverso. L'ho percepito io, lo percepiscono anche fior fior di riviste critici cinematografici che hanno capito il senso. Ma il cinema inglese ha il vantaggio di essere già di per sé un cinema che ha un terreno più fertile rispetto al nostro. E poi probabilmente ha anche una risposta del pubblico e della critica migliore. Ok? Quindi queste cose loro le possono fare. A proposito del regista che non conosco, chiudendo il contenuto, perché non vi voglio dire troppo sul contenuto, perché è un film strano, ve lo dovete godere. Però ecco, non aspettatevi il film con le risposte, il film con le risposte, con l'assassino, con il demone che si svela, la storia che si svela, questo è un film che non vi dà quello che volete. Che vi dà quello che vuole lui, è un film coraggioso, esteticamente meraviglioso, trovate assurde, immaginari assurdi, anche che rivangano il vecchio cinema horror italiano, giallo, dare argento effettivamente, eccetera. Si può definire una fiaba horror lugubre e anche ironica abbastanza triste, quindi c'è un po' di tutto. A me in generale è piaciuto, è un film che mi fa riflettere, che mi arriva dopo, che mi è arrivato dopo assolutamente, mi è arrivato oggi. Ieri era un po' così, oggi mi è arrivato, e quindi per me è un ottimo prodotto, interessante. Siamo nel film che osa, osa fare quello che gli pare. Addirittura, no forse non ve lo spoilero questo, la struttura del film è molto strana, a un certo punto vi chiederete ma come? Ah, è quella roba, ah ok. A metà film direte ma ah ok, non avevo capito che era così, perché il trailer non spoilerà un aspetto importante del film. Allora, qualche tempo fa, ma poco tempo fa, avevamo visto, a proposito di quello che hai scritto tu, il regista Strican ha girato anche Berberian Sound Studio, film psichedelico che guardai perché nella colonna sonale erano coinvolti i broadcast, che non so chi sono, ma probabilmente immagino, deduco, siano un ottimo gruppo. Allora, anche qua l'aspetto musicale e sonoro è molto bello, in Fabric. Estetica e musica e audio sono meravigliosi. Recitazione top, soprattutto di lei. Lo guardo stasera allora, grazie al consiglio Joe, prego. Bravo, un applauso a tutti quelli che seguono i miei consigli. Rimanete dell'idea che i film non vi devono piacere, ma vi devono nutrire. Ecco, pensate a questo. Non vi devono piacere, vi devono nutrire, vi devono sorprendere, vi devono dare qualcosa di diverso. Poi, se ci sono anche i film che vi piacciono in senso più viscerale, che proprio vi emozionano, vi lasciano bene anche, meglio, meglio. Servono anche quelli, li amo anch'io quelli, però io voglio anche darvi un modo diverso di frughire del cinema, no? Per esempio, se voi guardate un quadro di Bacon, il pittore che fa tutti questi quadri sanguinolenti, con carne squartata. Ecco, voi potresti dire che questo pittore è un cane? No, certo che no. Che è un pittore che non vi trasmette nulla, che non è intelligente, che non ha intelligenza emotiva il suo quadro, non ha dentro niente. No, certo che no, è un cazzo, è un artista insomma, ha affermato, lo sappiamo tutti, chi cazzo è Bacon, no? Però, quello che vi fa provare è qualcosa di brutto, quando lo guardate, non vi fa provare qualcosa di bello, vi fa provare una bella emozione, non è Klimt. Ok? Quindi il cinema è così. Poi potete andare un giorno a vedere Bacon, un giorno potete vedere Klimt, un giorno a Chagall, e Chagall vi fa stare in un viaggio onirico tra le stelle colorate. È così il cinema, no? Così che va usato, va fruito, come l'arte, non come vi insegnano, ci insegnano, come un prodotto che deve essere omologato, omologato, McBacon, Chris B. McBacon, Happy Meal, Super Double Whopper, con bacon croccante, no, cioè non sono prodotti, sono... è arte, cazzo. Poi sì, ci sono appunto, il cinema e il panettone sono prodotti, ma cerchiamo di renderli meno possibili quelli, comunque non caghiamoli quelli. Allora, a proposito di questo film, In Fabric, abbiamo visto un trailer qualche tempo fa che ci aveva un po' lasciato così, ci siamo detti, sì, però cavolo, interessante, cioè sembra una roba folle fuori di testa. E io avevo detto, mi sembra di aver detto, mi incuriosisce parecchio. Ed il regista era appunto Peter Strickland, lo scopro ora, perché poi ho guardato IMDB, e ho messo insieme i pezzi, quindi io vorrei vedere, rivedere con voi, il trailer di questo film, perché così magari qualcuno dice, ah sì, mi ricordo, cazzo. Questo è il prossimo film di Peter Strickland, regista di In Fabric, si chiama Flux Gourmet. Mi piace fare ruoli. Allora, avevamo già visto, c'eravamo, insomma, ci aveva sorpreso, e poi appunto, se guardate su IMDB, c'ha tutti dei voti pazzeschi. Io credo, credo questa cosa qua, che lui, abbiamo avuto la fortuna, come alcuni registi, così autoriali, così liberi, di essere poi coccolato dalla critica, che sembra una cosa negativa, ma in realtà è un bene, perché essere spalleggiati dalla critica ti permette di continuare ad avere sovvenzioni per i film, e nonostante i tuoi film non siano quelli che riempiono le sale, anche se ormai le sale non le riempie più nessuno. Questo nuovo film, secondo me, sarà ancora più pazzo, ancora meno digeribile al grande pubblico, e quindi è ancora più interessante per me, e spero anche per noi. Questo ed altri film sono quelli che io suggerisco, consiglio sul Discord, punto esclamativo Discord, entrate, se siete abbonati a questo canale, vi invito ad abbonarvi, se siete abbonati, avrete i miei consigli, playlist, tutto quello che trovo, che sia utile per godersi al meglio il cinema, lo condivido lì. Contento, contento di aver parlato di InFabric, e soprattutto che mi sia salito dopo, come un trip, proprio come un trip, non so quanti di voi hanno mai fatto uso. Insomma, ti sale dopo, questo è il concetto. grazie a tutti, Grazie a tutti